Milano è una delle capitali mondiali della moda. L'università Yulm è l'università della comunicazione, l'università dove si studia la comunicazione in tutte le sue forme. E allora perché non venire a seguire il master in management della moda e del made in Italy? Un master che insegna appunto a comprendere come sono i consumi e la comunicazione nella moda, nel lusso e nel design. Io sono Mauro Ferrerisi e sono il direttore di questo master. Comprendere i fenomeni della moda e del design, comprendere le scelte dei consumatori, sintonizzare il marketing, il branding, il retailing con le politiche delle aziende, queste sono le competenze che si acquisiscono nel nostro master. E' impostato per mettere alla prova gli studenti, quindi settimanalmente abbiamo un progetto da portare a termine e questo è un grande stimolo perché lavoriamo in gruppo e ognuno mette a frutto le proprie competenze ed è sempre una grande prova. Donata Sartori, giornalista e scrittrice di moda, nonché docente dentro il master medievita. Qual è il valore aggiunto che può dare un master come questo agli studenti? Qualcosa di fondamentale che in fondo è la nostra esperienza, non tanto di docenti, ma di professionisti. Credo proprio il fatto di essere una persona che lavora in questo campo, che conosce parecchemente, potrei davvero servire loro come chiave d'accesso in posti dove forse riprenderanno proprio a livello di stage iniziale, che però è l'unico modo per entrare, questo lavoro sul parco in campo. Ernella Bignani, esperta del prodotto Made in Italy, c'è il mondo del lavoro che aspetta questi ragazzi là fuori, lei crede che un master come questo riesca a dare delle competenze e qualche artù in mano a loro per poter poi spendersi bene nel mondo del lavoro? Credo che le possibilità ci siano, che il fatto di sapere dove e come andarsi a procurare le informazioni che servono, quali sono le strade nuove che si aprono anche in termini di tecnologia, eccetera, siano sicuramente delle caratteristiche positive per avere delle opportunità di lavoro. Quando ci sono le sfilate milanesi, il master va a seguire le principali e durante il periodo del salone, del fuorisalone e del mobile si va a vedere l'esposizione, ma si vanno anche a seguire le principali manifestazioni e le principali performance che la città offre. Gli stimoli durante le lezioni sono stati moltissimi, anche in termini di contatti ho avuto modo di conoscere persone oltre che molto interessanti che mi hanno aiutato nel mondo del lavoro. I colloqui delle preiscrizioni cominciano nei mesi di giugno e di luglio e proseguono per tutto il mese di settembre. Io vi aspetto!